Adesso purtroppo non siamo più in grado di garantire l'apertura che garantivamo, quindi un ampio orario e tutti i giorni tutti i servizi perché siamo ridotti estremamente di numero e bisogna concentrarsi tutti su un unico orario e conseguentemente cercare di fare un po' una cosa o un po' l'altra perché oltre al servizio al pubblico bisogna considerare che ci sono anche i servizi interni che preparano il servizio al pubblico. È visibilmente amareggiata la direttrice della Biblioteca Statale di Lucca, Monica Maria Angeli, nel comunicare la decisione obbligata di riduzione dell'orario di apertura di quella che è una delle istituzioni culturali più importanti della nostra città. A partire dal 2 settembre, infatti, a causa della mancanza di personale, l'orario di apertura subirà un drastico taglio in pratica resteranno solo il lunedì e il giovedì di apertura pomeridiana dato che il personale, a fronte dell'esigenza di 20-22 unità, al momento è ridotto a 12 che diventeranno 9 entro marzo. Una situazione insostenibile a livello gestionale e che ha portato a questa decisione nella speranza che il concorso nazionale per custodi, che si terrà a breve, faccia giungere a Lucca qualche rinforzo anche se questa non sarebbe comunque una soluzione definitiva. Ma io spero dal profondo che arrivino almeno 5-6 custodi, questo sarebbe il minimo per poter almeno continuare a garantire questo nuovo orario perché se non arrivano nemmeno questi non so fin per quanto tempo saremo in grado di garantire questo nuovo orario. Per ritornare all'orario che si aveva prima ci vorrebbe 10-12 persone e soprattutto oltre che custodi ci vorrebbero dei funzionari, dei bibliotecari perché dal 1 febbraio rimango l'unico bibliotecario e chiaramente i problemi si capiscono da soli. Ricordiamo che all'interno della biblioteca lucchese sono custoditi i capolavori ribrai di valore internazionale uno tra tutti i Liber di Minorum Operum di Santa and de Garda di Bingham risalente alla prima metà del XIII secolo che nasconde miniature inestimabili.